ariete è una giornata ardente e di buon umore che vi vuole in piena forma e sportivi attivi in ogni modo possibile le faccende amorose sono privilegiate passionali mentre gli scambi di idee con chi vi circonda sono piuttosto vivaci toro il buon periodo che state attraversando non si smentisce nemmeno oggi siete sull'onda di un rinnovato desiderio di socialità di spostamenti di piacere niente di straordinario solo un po di brio in più per riempire positivamente le giornate gemelli il momento è scorrevole amate cercare ogni forma di benessere e siete aperti agli altri alle intese amorose che adesso hanno davvero una marcia in più un po di attenzione a qualche spesa supera non guasta siete inclini a circondarvi di bellezza cancro è una fase positiva in cui andate cercando idee nuove e progetti che vi portino fuori della routine in una visione diversa dal vostro consueto scorrere del tempo a volte prevale un senso di insoddisfazione che può essere provocato da piccole delusioni a voi andate avanti leone prosegue la benevolenza del quadro astrale che vi vuole cedevoli verso gli affetti attivi e audaci nel modo di vivere sono giorni in cui avete modo di verificare un sentimento oltre a compiacervi della bella vitalità in ambito sociale nelle frequentazioni vergine è un assetto planetario di forza il vostro siete ricchi di idee e qualche innovazione fa capolino alcune questioni di vecchia data vengono finalmente concluse meno accogliente è la sfera amorosa che convenere disarmonica risente di una lontananza un po di conflittualità bilancia dovete mettere in conto un periodo un po contrastato che solleva la vostra irrequietudine vi induce a discutere con chiunque un po di stanchezza può avere il sopravvento magari è proprio il momento di una vacanza rigenerante scorpione state vivendo una proficua stagione di accordi e confronti che hanno valore in ambito lavorativo ma sono forieri di vantaggi anche personali state consolidando alcune realtà che volete portare avanti mentre i cambiamenti in atto si rivelano positivi sagittario è una giornata soddisfacente quella che vi accoglie nonostante alcuni disagi che possono caratterizzare la sfera sentimentale ma la voglia di andare oltre di sentirvi attivi e dinamici adesso ha il sopravvento e interpreta la vostra indole che si mantiene ottimista capricorno oggi siete un po agitati e nervosetti niente pare seguire il percorso desiderato e vi irritate per cose di poco conto è un periodo un po scombinato e confuso non privo di qualche inconveniente ma tutto scorre e dovrete farvene una ragione acquario la giornata è effervescente e appagante le positive influenze astrali rafforzano la sfera amorosa le vicende affettive le amicizie ed esaltano la vostra sensibilità umana marte in aspetto armonico spinge lo spirito a cercare qualche avventura pesci c'è qualche perplessità che ancora sfiora le faccende di cuore ma in buona sostanza l'assetto planetario è positivo e vi regala molte occasioni proficue in campo lavorativo oltre ad un sostegno nel giro delle amicizie che si rivelerà importante buone stelle